C'è qualche segno favorevole che fa pensare a un rilascio di mio marito, ma ci sono anche segni negativi, sfavorevoli. Io comunque non ho perso la speranza. Quello che mi auguro con tutto il cuore e il rilascio immediato di Reif, che se sarà liberato verrà in Canada dove noi vorremmo rimanere.